Passiamo ora all'innatismo in San Tommaso, ricorrendo esclusivamente a testi espliciti in argomento. Tommaso spiega Tommaso. Poste le precedenti premesse, veniamo ora all'esame dell'ossicato chiarimento sulla questione dell'innatismo in San Tommaso, circa il quale, credo o spero, d'aver potuto proporre almeno una base di partenza per un sereno dibattito con il mio libro da Tommaso Rosmini, redatto con l'ausilio dell'esplorazione elettronica dei testi. Si trattava, come ho già ampiamente rilevato, di dipanare il discorso sulla rilevata, per noi apparente, contraddittorietà di tanti testi tomistici riferibili alla facoltà conoscitiva. Per chiarire, prendo l'esempio e pongo a confronto due testi tra tutti. Primo testo, noi conosciamo, astraendo dalle cose singolari, anche gli stessi principi indimostrabili, come insegna il filosofo in seconda posteriore. Secondo testo, contraddittorio, le nozioni universali, la cui conoscenza ci è innata, sono come dei semi da cui tutte le sconoscenze seguiranno. Si tratta davvero di due testi emblematici, i quali altri numerosissimi corrispondono negli scritti di Sant'Omaso. Era chiaro, dunque, che occorreva rintracciare la ragione per cui il contrasto non poteva che essere apparente, stante la incontestabile coerenza della quinate. Ma invece i neotomisti italiani, protagonisti della secolare polemica antirasminiana, sottovalutarono la problematica indotta dalla suddetta parente conditatorietà e nel farlo ebbero la presunzione di un ruolo insindacabile, quali interpreti della quinate, mentre di fatto gli attribuivano a danno di lui genuina originalità un'eccessiva dipendenza dall'ostagirita, quando invece, in buona parte, tale dipendenza era piuttosto presente nel loro modo di interpretarlo. Essi svilivano il contenuto dei testi inatistici, riferendoli ad un non ben precisato habitus di carattere psicologico, atto a cogliere istintivamente, attraverso l'astrazione, le correlazioni delle cose esprimibili nei principi, cosa, tra l'altro, smentita da molti scienziati, penso tra l'altro a Galileo, a Newton, molti esponenti della scienza attuale. All'abitus così inteso, quei neotomisti pensavano che si potessero riferire, e forzavano al testo, anche le affermazioni più apertamente allusive ad una nozionalità previa. In tal modo, depauperavano la significanza ovvia, mi riferisco particolarmente al liberatore come esemplare, che vale per tutti, di espressioni come conoscenza innata, presisto in noi alcune nozioni, tutti note. Inoltre, alla stessa teorica nozione riduttiva di habitus, assimilavano il senso dell'intellectus principiorum, che ha invece in San Tommaso una ben precisa rilevanza nozionale nell'ambito tematico del confronto tra la conoscenza angelica e quella umana. Ben diversa l'interpretazione con cui i Rosmignali leggevano le suddette espressioni di ciapporinatistico, attribuendole ad una componente platonica, che ritenevano presente in San Tommaso accanto a quella aristotelica. Trascurare tale componente significava, a parer loro, considerare un ford'opera tutti i testi di carattere innatistico, pur dotati di peso teoretico e porre perciò San Tommaso in contraddizione con se stesso. Ma non giunse le Rosmignali a chiarire la ragione per cui molti contesti apparivano in netto contrasto con la pur innegabile componente platonica. Forti comunque di queste loro tesi riventicavano a Rosmini una sostanziale concordia teoretica con il dettato della Quinate, nel segno di una continuità dottrinale espressa nel trinomio Agostino-Tommaso-Rosmini, mentre gli avversari neotomisti all'opposto non solo contestavano ogni commistione teoretica con San Tommaso e Rosmini, ma vedevano, anzi nel roveretano, anziché un'erede della tradizione cristiana, un'epigona dell'idealismo tedesco aperto a tutti i più gravi errori, facenti capo all'ontologismo e al panteismo. Le due componenti aristotelica-platonica ci sono davvero in San Tommaso come si rileva da una profluia di testi che i rosminiani non mancavano di elencare, non giunsero a dimostrare, lo ripetiamo, la coesione sistematica dei testi deconducibile alle due suddette componenti. Di qui l'inconcludenza del dibattito, aggravata dal carattere metodologico della contesa, che opponeva testo a testo nel segno di una contraddittorietà senza sbocco. Un duello, si potrebbe dire con allegoria all'arma bianca, erano invece, come sarebbe stato opportuno, uno scontro o piuttosto un confronto strategico supportato da un'ampia, sistematica valutazione largo respiro delle reciproche posizioni. Di fatto invece questo duellare schermistico testo a testo restava disancorato da una visione d'insieme che fosse atta a segnare il divario tra il ricorso alla tesi dell'illuminazione divina, qual era quella a cui i rosminiani che ricorrevano sia a proposito dell'Aquinate che dell'Overetano, e le devianze idealistiche che gli oppositori indicavano come un rischio incombente. Fu così che, con la loro abile controffensiva, i neotomisti poterono autogratificarsi convincenti, stante anche il supporto, dopo la condanna delle 40 proposizioni tratte dai testi dell'Overetano, della censura ecclesiastica. Vittoria Carpita Ma per dimostrarne l'inconsistenza, i rosminiani avrebbero dovuto rintracciare nel sistema atomistico gli eventuali snodi teoretici trascendenti atti a risolvere ad un livello di coerenza l'apparente contraddittorietà dei testi suddetti. E mi sembra, ho cercato di fare, è ciò che mi sembra di fare con la mia ricerca da Tommaso Rosmini, con la quale mi sembra di aver potuto appurare, stante la reale presente in San Tommaso della componente inatistica, che il dettaglio atomistico non ci resi i mezzi teoretici per confermarla con una certa, sicura, retta interpretazione. E se ciò era già rilevabile dall'abbondanza delle documentazioni testuali raccolte nel mio lavoro, mi propongo in questo intervento di presentarne un'analisi strutturata, atta a rendere ancora più chiaro e convincente l'asserto inatistico. Ora possiamo dire che non solo esistono a tale scopo testi espliciti, ma esistono in modo da costituire una vera e propria tesi inatistica, il che si può dimostrare dando una sistematica disposizione ad alcuni contesti atomistici già offerteci dalla nostra elaborazione elettronica a partire dai più eclatanti. Ed il testo più esplicito lo troviamo incontestabilmente nell'ambito tematico degli intelletti creati ed esattamente nell'affermazione che se l'intelletto umano non avesse modo di accedere alle cose materiali attraverso i sensi sarebbe comunque dotato di una forma di conoscenza bensì inadeguata, ma pur sempre conoscenza, ed è proprio quello che invece i neotomisti escludono recitamente. Sicché il seguente testo basterebbe a smentirli, si anime umane, sicché esso in istituto adeo, ut intelligere ente per modum qui compitit substanti separatis, non abberente cognizione in perfectem, set confusam in comuni. Senza il corpo, lo spirito creato, che è l'uomo, avrebbe una sua conoscenza, ma confusa e vaga. Conoscenza inadeguata dunque, ma indispensabile in connessione col corpo per una conoscenza piena, vale a dire, come vedremo, scientifica, che i sensi di per sé non potrebbero mai dare. Non si tratta dunque di un'ipotesi peregrina, ma di una constatazione di base che parte da una limpide esplorazione dell'interiorità umana, fatta certamente da San Tommaso questa esplorazione, per risalire induttivamente alle caratteristiche delle facoltà intellettive attribuibili agli angeli e per ritornare a modo di circolo virtuoso sul modus conoscendi dell'uomo, quindi il confronto con gli angeli, un confronto che non è di opposizione, come fu sostenuto dai neotomisti che accusavano Rosmini di angelismo, ma è un confronto di parallelismo, come vedremo. E a questo punto è l'obbligo a osservare che fu proprio il non aver approfondito in ordine al problema della conoscenza la tematica inerente agli spiriti creati, la cune esedetica già fortemente denunciata dal brillante tomista Domenico Padres Piazzi, a favorire l'interpretazione pericolosamente riduttiva dell'habitus principiorum. L'attribuzione allo spirito umano, indipendentemente dai sensi, di una conoscenza confusa e incomuni, cui ben sadice l'accostamento alla rosminiana idea indeterminatissima dell'essere, non ve conoscenza senza l'essere, ma di questo altrove, e altrove fortemente ribadito dalla Quinate, come significativamente, per esempio, proprio in un testo dove si sostiene che la configurazione dell'intelletto umano è una stregua della tabula rasa. Intellectus umanus in sui principi asicut tabula in quannicilet scriptum, set postmodum, inconscienza per sensus acquiritur, addirittut intellectus agentis, singitur in principium naturalis umane cognizionis est equidam in potenza domnia conioscibilia, non avere autem a principio notiziam nisi e orum questatim in lume in intellectus agentis conioscundur, sicut sun prima, principi universali. Cioè, qui essenzialmente si dice che nulla è noto al principio, cioè prima di ogni esperienza, se non i principi universali. Tabula rasa dunque in ordine delle conoscenze piene e determinate, le specie sarese completamente note, grazie, come vedremo, all'astrazione e alla strumentalità. Alla strumentalità dei principi, ma non tabula rasa in ordine alle nazioni previe, che in quanto indeterminate sono ancora in fase di potenzialità, ma sono presenti. Ancora più eclatante e direi decisivo un altro testo che si potrebbe porre nell'ordine del paradosso in quanto tesa a togliere ogni dubbio affermando un'eventualità che è al limite estremo. Cognizio primorum principiorum determinator in nobis per sensus qui si estiam destruantur non minuitur certitudo principiorum que non est acquisita sed naturale terinsita. Cioè, il venire meno dei sensi non cancellerebbe i principi in quanto essi non sono acquisiti, ma inistiti nella nostra interiorità. La frase si trova in un contesto riguardante la carità come virtù infusa. Non mi risulta nota né i neotomisti, né i rosminiani, questo testo, ma al computer non sfugge nulla. La quale virtù infusa, appunto in quanto infusa, non può venire meno a causa dei peccati veniali, dice Tommaso. Ora, il fatto che Sant'Ommaso si serve a modo di esempio inconfruttabile del riferimento ai primi principi in quanto non acquisiti e perciò ineliminabili, significa che la tesi dell'innatismo è ben radicata nella sua mente. E se la tesi della componente platonica è evidentemente confermata da questi contesti, possiamo vederla esplicitamente affermata dall'Aquinata sulla scorza dello stesso Aristotele, in un testo che di tale componente ci fa conoscere il senso e i limiti. Infatti, pur ben lontano dall'innatismo platonico, Aristotele non concedeva tuttavia la sua approvazione a quanti negavano ogni tipo di cognizione previa. E proponeva per parte sua, a correzione della predetta opinione, una soluzione conciliante, che Sant'Ommaso nel darne una chiara delucidazione accoglie senza difficoltà. Cioè non sono escluse conoscenze previe all'esperienza, benché è bisogno dell'esperienza stessa per determinarsi appieno. I neotomisti e i liberatori in testa furono tardi a recepire questa duplice eccezione del fatto nozionale, questo rapporto cioè tra l'uscire e l'addiscere. E di fronte alla profluvia di testi in cui l'Aquinata affermava che anche i principi primi si conoscono partendo dai sensi, finirono per delegittimare il significato proprio del persenoto e ricorsero all'eccezione dell'habitus da loro equivocamente inteso come disposizione naturale a scoprire i principi nei dati della stazione, mentre quei dati non sono portatori di principi, ma sono colti come puri dati. Eppure Sant'Ommaso aveva chiaramente giustificato il duplice modus conoscendi. Non è lima este inconvenience, dice, quod quiss'addiscite non è lima inconvenience se si aliquit quod amudo presciat, it pod addiscit. Sed estet inconvenience, se hoc modo precognosceret secundum quod addiscit. Unde nec in id quia sadiscit irat omnino prisnoto, ut plato posuit, nec omnium omnino ignotum, ut secundum soluzione supraimprobatam, prolebatur, sederat notum potenza sive virtute in principis precognitis universalibus. Cosa dice qui? Sant'Ommaso dice, non è disticevole che si dica che venire a conoscere ciò che era detto già noto, si tratta di due modi di conoscenza, modi distinti, ma pur sempre conoscenza, indeterminato e in universale il primo modo, determinato e pieno il secondo. Questi due modi del conoscere sono corrispettive due fonti, quella priorica della mente e quella dei sensi. In ciò consiste lo stesso, lo snodo teoretico, che risolve l'apparente contraddittorietà di quei testi che si riferiscono alla conoscenza innata in rapporto a quelli che si riferiscono alla conoscenza derivata dai sensi. Perché i principi primi, se per sé noti a livello indeterminato, si facciano noti secondo un proprio incognizione, occorre l'acquisizione astrattiva delle specie, ossia dei dati, ma le specie, come dicevamo, non portano a conoscenza le proprie reali correlazioni, ma nell'atto di determinare i principi vengono a loro volta conosciute nella correlatività, così dicasi ad esempio, della correlatività di maggioranza tra un tutto e una parte o di causalità tra un evento antecedente ed uno conseguente. Il che Sant'Omaso chiaramente afferma in questo illuminante contesto, al primo mergo dicendo, quod siccuti in venimus in processo coniezionis, quod in coniezione in principiorum venit, quis per principiata, quibus amene abites mages ipsa conoscit quam principiata, mechindiget in principiates, al coniezione in principiatorum, que iam per sé conoscit. Si va, dice qui Tommaso, dei principiati, per esempio dagli effetti che dipendono in re dal principio di causa, principiati, alla conoscenza attuale dei principi già di per sé in mente virtualmente noti. È chiara l'indicazione dei due momenti della conoscenza dei principi, quella previa indeterminata e quella piena intesa come una forma di esplicitazione cosciente in presenza dei dati che hanno una funzione, potremmo dire mutatis mutandis, di catalizzatori. In questo contesto vorrei mettere in particolare rilievo un inciso che riveste grande importanza per il nostro tema. Lo traduco. E non c'è bisogno dei principiati, cioè degli eventi dovuti ai principi in atto, per conoscere i principi, perché essi sono già per sé conosciuti. Più chiaro di così. Ci si potrebbe chiedere a questo punto se non si affacci un problema, quello classico del ponte. Come può avvenire infatti che l'intelletto umano acceda alla conoscenza incontestabile dei rapporti e delle cose e quindi alla conoscenza scientifica del reale, avendo a disposizione soltanto i dati indipendentemente dalle loro correlazioni? San Tommaso stesso ci suggerisce la soluzione del problema. Sicutenim omnes raziones arerum intelligibiles primo existut in Deo et habeo derivantur in allius intellectus ut act intelligant sic estiam derivantur in creaturas ut subsistant summa teologia, eccetera. Cioè da Dio provengono le idee razionam rerum intelligibiles negli intelletti perché conoscono e nelle cose perché esistano. Ben sappiamo che ci si potrebbe obiettare che ciò secondo San Tommaso è vero per gli angeli in toto e non per l'uomo e ci si potrebbe portare a smentita quest'altro contesto se di converso scienza nostra causata est arebus in quanto un silicet eas eam arebus accipimus è verissimo che senza il discorso astrattivo alla conoscenza delle cose non vi sarebbe scienza perché non esisterebbe nessun incentivo atto a rendere espliciti alla coscienza i principi primi innati su cui si basa la scienza umana ed è per la stessa ragione che San Tommaso come già Aristotele afferma talvolta che gli stessi principi dipendono dai sensi intendendo che senza i sensi la presenza previa dei principi risulterebbe inefficace ma a dimostrare che il suscitato testo della Somma vale bensì in toto per la conoscenza angelica ma vale anche per l'uomo per quanto riguarda i principi primi innati di cui egli è dotato abbiamo chiarissima la testimonianza di San Tommaso ultimum gradum in genere intellettualium substanziarum ut ex modi intelligenti percepi potes et in de est coed anim intellettuales licitoresse quasi horizon et confinium corporeorum et incorporeorum in quanto l'est sostanza incorporea corporis tam in forma cioè non è segnata la natura dell'anima umana in rapporto alla natura angelica da una radicale alterità come vorrebbero i neotomisti che usavano Rosmini di angelismo come abbiamo già detto ma è dotata questa nostra natura di una contiguità con la natura angelica quasi horizon contiguità che la caratterizza sia pure all'ultimo livello come sostanza intellettiva benché è bisognosa di attingere ai sensi per completarsi anime umane anime umane abent potenziam intellettiva non completam in naturalità se completi torinei successive però codaccipiunt species intelligibile arebus per cui nell'uomo alcunché che c'è alcunché che la vicina intellettualmente agli angeli quanti scognizio anima umana proprio sfitta per via razionis estam in ea alico a partecipatio e l'io semplici scognizioni quei sostanzi superiori am in mit in altre parole venne l'uomo sia pure ad un livello molto inferiore quello dei principi primi un certo parallelismo che lo fa partecipare al modus cognoscente dell'intelligenza angelica inacvirtus est quedam modica partecipatio intellettualitatis respectue eius quod de intellettualitate in angelis in angelo est del suddetto parallelismo lo stesso Sant'Omaso ci dà esplicita delucidazione spiegandoci che come per l'irradiazione della verità divina sono innate negli angeli le specie slerum onde essi tutto conoscono così sono innate nell'intelletto umano i primi principi sicc da verità dell'intellectus divini efflunt in intellectum angelicum specie reruminata secondum quass omnia conoscit ita verità dell'intellectus divini exemplare ter procedit in intellectum nostum veritas primorum principiorum secondum quam de omnivus dedicamos e ancora sicc dell'intellectus nostre se abet ad ist a principia sic se abet angelus ad omnia que naturali ter conoscit come il nostro intelletto si relaziona a questi principi così l'angelo ha tutto ciò che conosce cosicché come l'angelo tutto conosce per intuito così noi intuiamo i principi un un discorso principia cognoscimus semplici intuito ita et angeli omnia que cognoscunt impossibile poter conciliare queste esplicite affermazioni con la riduzione dei principi innati per se noti e la semplice predisposizione soggettiva di conoscerli il che oltre al resto eliderebbe la priori nazionale che già abbiamo visto affermato nei precedenti citati testi e che vediamo confermato ulteriormente nel rapporto attribuito da Sant'Omaso ai principi primi che sono come semi della scienza con l'ume intellettivo del quale sono visti come uno strumento coniezione per due acipit scilice per l'ume intellettuale e per prima sconcezione per se notas que comparantur ad istud lume quod est intellectus agentis siccut instrumenta d'artificem si tratta di un testo ricco di rivevanti implicanze che possono darci modo di fare considerazioni importanti vorrei qui mettere in particolare in rilievo la caratterizzazione dei principi primi come seminaria scienziorum scienziarum preexistut in nobis scrive la quinate quede un scienziarum semina scilice prime conceziones intellectus questatum lumine intellectus agentis cognoscuntur perspecies sensibilibus abstractas sives incomplexa sicudignitatis sive incomplexa sicutratio entis etunius etuius modi questatum intellectus apprendit in istis autem principis universalibus omnia sequenza includuntur sicut inquibus dam rationibus familiaribus questo importante contesto si dice chiaramente che per sant'ommaso i principi primi da cui dipende tutto il sapere sicut inquibus amrazionibus seminaribus consistono non solo in alcune proposizioni per se note complesse ma alla fonte consistono nei loro stessi elementi semplici come l'ens lunum incomplexa elementi semplici e principi complessi sono appunto le prime concezioni s'intellectus che per se note virtualmente vengono attualmente determinate e perciò attualmente conosciute in forza delle species e si ricorda che qui il conoscere è un addiscere resta con ciò accertato che anche la ratio entis fa parte della priorità nazionale ed è quindi stupefacente che proprio questo testo sia stato usato ripetutamente dal liberatore per dimostrare inconfutabilmente a parere suo che l'idea dell'essere si acquisisce tramite le sensazioni maimè egli ha usato impropriamente questo contesto con una omissione gravissima che ne si ronvolge il senso anche a scapito della stessa correttezza grammaticale ha eliminato infatti sostituendole con dei puntini proprio le parole sive sin complexa sic cut dignitatis sive incomplexa risulta invece ben chiaramente a chi voglia tenere presente quanto siamo venuti fin qui dimostrando ricorrendo esclusivamente la testimonianza dello stesso San Tommaso che l'innatismo dei principi primi non può non comportare l'innatismo delle concezioni sin complexe omnibus note sulle quali è dominante la ratio entis non si tratta di una constatazione da poco dal momento che la dinamica conoscitiva che riguarda il rapporto delle specie sequisite con i principi nati va allora estesa al rapporto dell'essere come idea con le specie sequisite il che comporterebbe un accostamento all'agnoseologia rosminiana ed imporrebbe una revisione della dinamica astrattiva nel coinvolgimento del lumen con i principi primi naturalmente noti siano essi complessi o incomplessi che visti nella loro funzione strumentale già sopra rilevata dovrebbero entrare nello stesso iter conoscitivo procedente dall'attività dell'intelletto agente alla recettività dell'intelletto passivo intensi universalità s'illustratio phantasmatum redizio ad phantasmata abstractio specerum manifestatio determino statim principiorum judicium eccetera i rosminiani avevano già spezzato un'arancia in favore della presenza in San Tommaso di un sintesismo essere illuminante realtà sensibile previo previo la stazione previo questo sensesismo la stazione indicando il contesto phantasmata et illuminantur ab intellect agente et iterum iterum abeis per dire tutte minte electus agente specie intelligibili astrauntur cioè prima i fantasmi vengono illuminati operazione sintetica e poi da essi si astraggono le specie liberatore valutò la forza di questo reglievo in prima istanza e si limitò ad osservare che una rondele non fa primavera ma poi si diede da pari suo a confutarne il valore in artistico ma non altrettanto facilmente avrebbe potuto il liberatore sottovalutare quest'altro contesto sfuggito ai rosminiani ma a noi offerto dall'esplorazione elettronica sempre fedele e completa lume istu e ips insum tenim nobis naturaliter quedam principia prima complexa omnibus nota esquibus ratio proceditat conoscendum in actu conclusiones que impredictis principis potenzialiter continentur attenzione et similiter intellectu insum nobis et seum naturaliter quedam concezione somnibus note utentis unigius boni et unigius miti a qui bus eode modo procedit intellectus ad conoscendum quiditatem unigius quius carei per quem procedit a principius persenotis ad conoscendus conclusiones cioè come si va dai principi alle conclusioni dice Tommaso chiaramente così si va dalle concezioni somnibus note e quindi specialmente dall'ens alla conoscenza dell'acquidità di ogni cosa c'è una vicinanza qui alla rosminiana teoria della conoscenza si tratta di un testo esplicito di cui i neotomisti ancora fedeli attesi aristoteli che non possono non tener conto per parte nostra riteniamo per ora eccedente lo scopo che ci siamo previsti approfondire questo aspetto dell'innattismo atomistico soltanto vorremmo concludere questa rassegna comprovante il suddetto innattismo con questa interessante testimonianza di un iter conoscitivo che percorre a ritroso i passi dell'umano sapere fino alla fonte indefettibile della verità che è Dio si tratta di un chiaro esempio del processo di resoluzio da cui dipende l'attendibilità di tutte le nostre nazioni è un concetto sulla carità quella su cui si fonda questa frase questo contesto si fondano queste parole di San Tommaso molto importanti avere un'idea della carità vice la quinate avere un'idea di questa virtù considerandola ad esempio come un dono atto infondere in noi un affetto che ci riunisce a Dio comporta che già sappiamo cosa significa dono cosa significa affetto cosa significa unione come un dono come un dono come un dono come un dono nel quale possa essere assicurata questi concetti una significanza universalmente condivisibile ed ecco il suo parere che certo la dice lunga sulla sua cognosologia perché ci parla di un itinerario concettuale ascendente che giunge alle conceziones naturali ter omnibus note cioè i principi innati incomplessi e quindi particolarmente all'ense de quibus etiam qui des sinte sire non possimus nisi risolvendo in ali risolvendo in ali quaprius nota e si cousque per deniamus susque primas conceziones umana intellektus que sunt omnibus naturali ter naturali ter note ogni commento è superfluo ma c'è di più il passo si conclude infatti con un importante richiamo a quella priori creazionistico che sta alla base come abbiamo già avuto modo di osservare dell'inatismo nozionale tomistico et quia naturalis cognizio esquedam silenitudo divine veritatis menti nostri impressa sicundumillud salmum set signatum est super nos lumen vultus tui domine idodicit augustilus et tritate quod oiusmodi abitus cognoscuntur cognoscitur questi abiti sono conosciuti nella prima verità che è Dio grazie dell'ascolto grazie a tutti